Uno straniero è stato accoltellato ad Eboli a Campolongo durante una lite per frutti di motivi. L'uomo ha riportato ferita ad un'occhia e un pontmore. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Eboli ed il reato è perseguibile dopo la querela della parte offesa. La lite e il conseguente accoltellamento sono avvenuti domenica mattina a Campolongo, alla periferia della città capofila della Piana del Sile. Il ferito, trentenne e straniero, è stato trasportato all'ospedale di Eboli per le cure del caso e non è in pericolo di vita. La lite per motivi economici è avvenuta tra stranieri e l'accoltellatore molto probabilmente rubriaco. L'aggressore potrebbe essere identificato ed inganciato a piede libero. Nel frattempo le forze dell'ordine sono a lavoro per chiarire i motivi dell'aggressione e il successivo accoltellamento.